È stata la filiale di Arezzo della Banca d'Italia ad ospitare la fase regionale del premio Inventiamo una banconota rivolto alle scuole di Toscana, Marche e Umbria. Tema per questo anno scolastico un nuovo inizio ripartire attraverso l'economia proposto per incoraggiare gli studenti a riflettere dopo i drammatici mesi trascorsi nella lotta contro il Covid sulle opportunità che rappresenta per le nuove generazioni la ripartenza in chiave economico-finanziaria. In questa occasione sono stati assegnati premi da 2.000 euro alle prime tre scuole classificate per ciascuna categoria primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado. Il 6 giugno la premiazione a livello nazionale. La Banca d'Italia in questa azione di divulgazione dell'educazione finanziaria tra le tante iniziative concertate con la scuola individua in questa una delle più gioiose. Inventiamo una banconota, è un progetto multidisciplinare inserito nella programmazione didattica delle scuole attraverso cui i ragazzi possono esprimere estro, creatività, visione, cercando di trasfondere le loro idee, sentimenti, ideali, speranze nel disegno di una banconota immaginaria. È un compito che non è agevole perché è un po' simile a quello che le banche centrali fanno con i biglietti veri. In quei livelli ci sono le caratteristiche di sicurezza volte a impedire la contraffazione ma c'è comunque un disegno importante che vuole in qualche maniera servire per far sentire i popoli d'Europa identificati in un messaggio. Questo è il loro messaggio, un messaggio per la ripartenza dopo la pandemia attraverso l'economia. Oggi loro scelgono il disegno di una banconota ma è importante che loro ne capiscano il valore? Il valore che si lega alla creatività, quindi partendo dai più piccoli, penso agli istituti comprensivi che hanno partecipato, è stato utilizzato un approccio molto ludico e creativo appunto per poi toccare importanti argomenti come quello del valore della banconota, quindi il potere di acquisto e che poi si lega a tematiche molto importanti che i ragazzi sentono a citare anche dalla stampa, dalla comunicazione e quindi anche questo progetto si collega molto positivamente su quella che è la parte dell'educazione civica per aprirli ad un mondo migliore e quindi per formare dei cittadini consapevoli.